e lui è molto buono signore anche lui è da gente è la faccia di tutti è che siomiglia a lui la piozza come è? bannucci? dai vai per Serbia andiamo vai con Dio vai Trialmati guardate che spesso guardate che spesso guardate che spesso vai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.